Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Come dal titolo svolgerò degli esercizi di analisi matematica 3. In questo caso l'argomento sono le distribuzioni. Nello specifico svolgerò tre esercizi che sono stati svolti nell'esercitazione di analisi 3 al corso di laurea di Ingegneria Fisica all'Opera di Tecnico di Milano. Prima di iniziare, per chi avesse necessità o volesse comunque delle ripetizioni online, sono a vostra esposizione. I contatti sono tramite Instagram e nella mail. Potete scrivermi anche su Instagram, anche senza seguirmi, insomma, io riceverò il messaggio. O tramite mail, che controllo sempre la posta elettronica. Cominciamo? Allora, abbiamo prima questa funzione f con n, definita in questo modo, n per la funzione caratteristica, e inoltre appunto ci chiede di calcolare il limite, quando n vale l'infinito, di f con n, applicato appunto a questa funzione fi, no? Di prova, test. Bene, la soluzione è la seguente. Allora, vediamo innanzitutto il limite puntuale. Allora, vediamo che la nostra funzione f con n è più infinito quando x è uguale a 0. Quindi, per ogni x fissata, vediamo cosa succede. E 0 quando x è diversa da 0. Questo dipende anche dalla funzione caratteristica, in effetti. Vediamo di fare proprio, sapendo ciò, il limite di n, che tende all'infinito, di f con n applicato a fi. Cos'è appunto questo qua? Non è nient'altro che l'integrale, in R, di f con n, x, in fi, in d di x. Ok? Esplicitando la funzione f con n, poiché c'è la funzione caratteristica, l'integrale, gli estremi degli integrali diventano 0 e 1 fratto con n. di n, fi di x, in d di x. La n la portiamo fuori, quindi possiamo dire n integrale tra 0 e 1 fratto n, di fi in d di x. E qua, per il teorema della media, possiamo dire che è uguale a n per la differenza degli estremi, cioè 1 fratto n, per fi di un c con n. Di un c con n è un valore compreso tra 1 su n e 0. Il teorema della media integrale l'ho spiegato in un video, se vedete la playlist di analisi 2. L'ho spiegato il teorema della media dimostrandola anche. Ora, n con n si semplifica e rimane il fi di c con n. Applicando e facendo proprio il limite, ok? Quindi, diciamo che qua ho trascurato il limite, facendo proprio il limite della mia funzione, si ha il limite con n che tende a più infinito di f con c con n, ma per come è definita non è nient'altro che fi nel punto 0. E questa è la definizione della delta di Dirac centrata in 0. E quindi questa è la soluzione al mio esercizio. Il secondo esercizio che andrò a fare ha la seguente funzione f con n, che è n x alla n, è sempre la caratteristica, in questo caso un intervallo tra 0 e 1. Come sempre chiede il limite di n che tende a più infinito di f con n fi. Allora, un attimo andiamo a vedere cosa... com'è. Come sempre andiamo a vedere un attimo il limite puntuale, e quindi la nostra f con n è uguale a più infinito quando x è uguale a 1, e 0 quando x è diverso da 1. Andiamo a vedere un attimo la nostra distribuzione f con n con fi. non è nient'altro che l'integrale tra 0 e 1 di n x alla n per fi di x in d di x. Questo perché? Perché in teoria sarebbe l'integrale in tutto r, ma prendendo la funzione caratteristica in questo intervallo 0 e 1, gli estremi si riducono appunto a un intervallo tra 0 e 1, altrimenti l'integrale è 0, quindi di conseguenza non ha senso fare l'integrale. Facciamo per parti, ok? E qua otteniamo n fratto n più 1, x n più 1 fi di x, valutato tra 0 e 1, meno l'integrale tra 0 e 1, n x alla n più 1 fi, fratto n più 1, tutto in d di x. Facendo il tutto, si riduce a n fratto n più 1 per fi di 1, meno l'integrale tra 0 e 1 di n fratto n più 1, x alla n più 1, per fi primo, infatti qua, scusate, è fi primo, in d di x. Ora, cosa succede? si deve dimostrare che questa integranda, tutta questa integranda, per n che va a più infinito, l'integrranda va a 0. Quindi dobbiamo dimostrare. Come? Lo dimostriamo con la convergenza dominata. Cioè diciamo che appunto il valore assoluto di n fratto n più 1 di x alla n per fi primo, più 1, è minore o uguale di un m, dove m non è nient'altro definito come il massimo tra l'intervallo 0 e 1 di fi primo. Ok? Di conseguenza definendo ciò, diciamo che il limite di f con n fi, quando n tende a più infinito, è uguale al limite di n fratto n più 1, fi di 1, meno 0. E questo cos'è? Questo è proprio fi di 1, quando n tende a più infinito. Cioè nient'altro che la delta di Dirac, centrata in 1. Adesso facciamo un esercizio un po' più complicato, in cui abbiamo anche dei parametri, e quindi con alfa e beta maggiori di 0 abbiamo il seguente. La nostra f con n, meno alfa n, beta n e 0, definite nei seguenti intervalli. Valore assoluto di x minore di 1 fratto n, 1 fratto n minore del valore assoluto di x, a sua volta minore di 2 fratto n, e 0 altrove. Come sempre, il limite di f con n fi, della distribuzione appunto, al limite. La soluzione è la seguente. Allora, andiamo a vedere un attimino. spessettiamo il tutto, gli intervalli, esplicitando i valori assoluti. Quindi la nostra f con n fi, cos'è? Sarà l'integrale tra meno 2 fratto n, meno 1 fratto n, beta n fi di x, ovviamente la fi è una fi di x, meno meno 1 fratto n, 1 fratto n di meno alfa n fi in d di x, più l'integrale tra 2 fratto n, 1 fratto n di beta n fi in d di x. Ok. Raccogliamo n, cosa otteniamo? otteniamo beta con i suoi estremi di integrazione, fi, meno alfa integrale tra 1 su n e meno 1 su n in fi, più beta ancora nei suoi estremi di integrazione, fi. Anche qua applichiamo il teorema della media. Ok? E quindi cosa abbiamo? n beta di 1 fratto n di fi di a con n meno alfa per 2 fratto n per fi di b con n più beta di 1 fratto n fi di c con n. Dove abbiamo la seguente disuguaglianza in cui effettivamente diamo un intervallo a queste nuove costanti innesime a con n b con n c con n sono dei valori insomma. Meno 2 su n a con n insomma così sono definite a con n b con n c con n e scritte in questo modo vediamo come effettivamente siano limitate tutte e tre. Facendo il limite quindi facendo il limite di della nostra della nostra distribuzione f con n con fi abbiamo il limite di cosa? Di beta applicato a facciamo tutto così fi di a con n più fi di c con n meno 2 alfa fi di b con n questa cosa sarà uguale quando n tende a più infinito a con n b con n c con n tendono a 0 e scusate tendono a fi di 0 e di conseguenza si ha 2 beta meno alfa tutte moltiplicate per fi di 0 e questo è nient'altro che 2 beta meno alfa delta di Dirac centrata in 0 fi e quindi abbiamo tenuto un'altra risposta questa è la nostra soluzione. Per qualsiasi curiosità o dubbio fatelo pure sapere nei commenti dato il sondaggio che ho fatto qualche giorno fa sul canale pubblicherò diversi esercizi di analisi 3 di qualunque di qualunque argomenti che riguardino questi quindi non solo distribuzioni ma integrazione integrali delle bag trasformate di furia eccetera e poi anche esercizi di elettromagnetismo successivamente farò di chimica e meccanica quantistica grazie a tutti grazie a tutti